Ci troviamo a Villa Buselli con Bettina Bolla presidente di Donne da Mare e ci troviamo qui perché c'è un incontro importante, il DDL ammazza balneari, la Liguria dice no, che cosa ci può dire in merito? Allora sarà un tour di quattro tappe per quanto riguarda la provincia di Savona e Imperia e oggi è la seconda e noi vogliamo dire no al DDL perché contiene le aste, le certifica è una delega in bianco e non ha all'interno tutte le richieste della categoria che la categoria ha condiviso con i sindacati però ha soltanto le aste quindi io prego a tutti i balneari, gli iguri di venire anche a un altro appuntamento il 15 marzo a Roma e faremo una manifestazione indetta da Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano che si svelgerà a Piazza Montecitorio dalle 11 di mattina alle 2, tutti insieme, insieme ad altre regioni italiane per dire no alle aste e sì alla continuazione del nostro lavoro che tocca 30.000 imprese balneari italiane e 1300 Liguri.